C'è posta per noi le cartoline di nonna Irma. Eccola in Kenya, è arrivata e ha già incontrato i piccoli orfanelli della missione. L'avevamo lasciata con queste foto all'aeroporto dove con il suo trolley partiva destinazione il suo sogno, quello di raggiungere i bambini in Africa che aiuta da anni inviando denaro dalla sua casa di 90 Vicentina. In pochi giorni gli scatti erano diventati virali conquistando il web e raccogliendo migliaia di like. Non va in un villaggio turistico servita e riverita, avvertiva con un post la nipote, ma raggiunge un villaggio di bambini in un orfanatrofio. Scatti postati sui social che trasmettono immediatamente la gioia di vivere di questa nonna di 93 anni che è diventata a suo malgrado una web star. E oggi eccola qui in Africa dove le comunicazioni sono difficili e allora ha inviato un messaggio vocale a casa. Sto bene, il viaggio è stato lungo ma sono già operativa e felice. Anche in Kenya con la sua gioia di vivere è diventata subito la nonna di tutti. Nella sua valigia ha portato pochi vestiti per lasciare spazio ad ago, filo, forbice e colla con cui cucirà quella che è una sua specialità. Scatole fatte con vecchie cartoline. In ogni scatola per ogni bambino metterà l'amore di un oggetto fatto a mano col sorriso. Nei prossimi giorni andrà a visitare il nuovo orfanatrofio costruito in questi anni proprio con le offerte della comunità italiana e vicentina. Salutiamo nonna Irma col commento della nipote che ha scritto. Credo che tutti noi dovremmo conservare sempre un pizzico di inconscienza per vivere e non per sopravvivere.